Un salotto nelle viscere della città, nel cuore del centro storico sotto Piazza Duomo, un progetto ambizioso che renderebbe giustizia e valorizzerebbe ancora di più la nostra splendida città. Una sorta di galleria colonna, come la vuole immaginare il sindaco dell'Aquila, con tanto di attività commerciali di altissimo livello e parcheggi per decongestionare il traffico ed annullare, una volta per tutte, il parcheggio selvaggio a ridosso dei nostri monumenti. Sotto Piazza Duomo riprende in parte una vecchia idea di questa città. Il Pagio Financing propone di costruire due piani di parcheggi sotto Piazza Duomo, pertinenziali però, vale a dire destinati soprattutto ai residenti del centro storico, perché noi dobbiamo fare l'isola bidonale e quindi non vogliamo più macchine nelle piazze, intorno alle chiese e così via, pertinenziali anche ad esempio per commercianti, possono comprarlo, affittarlo per un anno un posto auto e che so, la Banca d'Italia che già sarebbe interessata a prenotarne una diecina, questo potrebbe valere per la Prefettura e così via. Quindi pertinenziali che non entra quindi in concorrenza con il megaparcheggio, anzi unito al megaparcheggio di Colle Maggio e poi sotto la piazza una struttura di attività commerciali di altissimo livello che sarebbe una specie galleria colonna di Roma o la galleria di Milano, la galleria di Napoli, cioè un posto di altissima qualità, altissima eleganza perché in una città come l'Aguila, soprattutto per l'inverno, si presterebbe molto lo stesso concetto delle gallerie. Un progetto che convince sempre di più il sindaco Massimo Cialente, ma che vuole condividere con la comunità. Io comincio a convincermi per un sì e voglio sentire adesso cosa ne pensano gli aguilani, attraverso voi so benissimo che diventerà una discussione, cosa mi convince? Innanzitutto i parcheggi pertinenziali, cioè i residenti pensi di via Roio, della Prefettura, eccetera eccetera, avranno un posto dove rifugiare la propria autovettura, sotto casa di fatto e liberiamo le piazze che noi dobbiamo fare lì su a Pedonale. La seconda è che realizzando una struttura di grande eleganza nel centro storico, questo punto li trovo, ripeto, con negozi importanti come la galleria Colonna, io quando facevo il deputato una sera uscivo, me ne andavo alla galleria Colonna, dalle 20 alle 22, me ne stavo dentro la Feltrinelli ad esempio, feticisticamente a vedere i libri e così via, quindi un posto di livello che mi darebbe vita al centro storico.